Presentato a Colonnella il libro di concetto Benizi Colonnel, Albo dei Sindaci, anno di nascita del Comune Moderno nell'Italia meridionale al 2016, c'è di storici e amministrativi, un volume che racchiude al suo interno la storia del Comune a partire dalla sua Costituzione avvenuta nel 1806. Una cosa importante perché è la nostra storia, finalmente siamo riusciti a ricostruire la nostra storia da quando è nato il Comune Moderno nel 1806 fino ai giorni nostri. Il nostro è una ricerca storica fatta dall'ex dipendente del Comune Benizi, il quale negli archivi comunali e nell'archivio di Stato è ricostruito tutta la nostra storia amministrativa. Tutta l'attività svolta in questo libro da Benizi si racchiude con tre bacheche che noi abbiamo realizzato, oggi scopriremo le bacheche, con tre momenti storici importanti. La prima dal 1806 al 1861, dato in cui c'è stato praticamente l'Unità d'Italia, poi dal 1861 fino al 1963, data importante in cui il Comune di Colonnella si è scisso col Comune di Martinsicuro e da 63 fino ad oggi. Per cui ecco un discorso storico di tutta la storia del paese con tutte le vicissitudini che ci sono state, che sono state narrate in questo libro di Benizi e quindi chi leggerà il libro saprà di tutte le storie e le vicissitudini colonnellesi.